L'ingegnere capo del Genio Civile Leonardo Santora ha comunicato il rilascio del parere favorevole al Comune di Milazzo per la realizzazione dei lavori proposti per la mitigazione dell'erosione della spiaggia di Vaccarella, tali da favorire il relativo ripascimento. L'intervento verrà esaminato in sede di conferenza dei servizi e potrà contribuire alla risoluzione delle annose problematiche di erosione costiera di Vaccarella. La progettazione esecutiva, redatta dal Terzo Ufficio di Staff del Comune, ha già acquisito anche il nulla osta della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina e del Dipartimento regionale per l'ambiente, mentre il servizio VAS-VIA ha chiesto ulteriori approfondimenti delle tematiche ambientali concernenti la tipologia specifica di intervento. Soddisfatta l'amministrazione comunale, stiamo facendo l'impossibile per acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori, anche se il Comune non ha competenze specifiche, spiega l'assessore lavori pubblici Santi Romagnolo. Per il sindaco Carmelo Pino, oggi tutti parlano della necessità di intervenire sull'arenile di Vaccarella. Ci sono politici che effettano sopralluoghi e fanno promesse. L'amministrazione comunale, però, vista l'inerzia della regione, ha rotto ogni indugio, sostituendosi a chi per competenze avrebbe dovuto puntualmente intervenire. A breve è prevista una nuova riunione con tutti gli enti interessati per ottenere i pareri preliminari per la realizzazione di quattro pennelli protettivi perpendicolari alla linea di costa in prolungamento dei cunettoni esistenti. Tutto ciò in attesa dell'intervento a lungo termine del ripascimento vero e proprio dell'area di Levante e di Ponente, per il quale sono già stati eseguiti a titolo gratuito studi specialistici dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con riferimento alla caratterizzazione granulometrica dei sedimenti e sono state avviate altre attività di campionamento dei sedimenti che potrebbero essere utilizzati per ripristinare le condizioni di originaria stabilità della linea di costa con materiale idoneo.